L'Abruzzo, protagonista all'Assemblea di Bilancio Conad, indetta a pugno chiuso in provincia di Foggia, è andata 8 giugno. Una riunione che si ripete di anno in anno, dove direttori e soci si sono incontrati per analizzare l'andamento di mercato del marchio Conad Adriatico. Se le marche sono le radici di questa grande cooperativa, Abruzzo e Molise ne sono il motore, tanto da divenire leader di mercato. Nella nostra regione sono in funzione ben 140 punti vendita, che nel corso del 2018 hanno sviluppato un giro d'affari di 559 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto all'anno precedente. Alla base un'unica logica, soddisfare ogni esigenza di acquisto e convenienza. Il cuore dell'offerta sono i freschi, dal pronto da mangiare al pronto da cucinare. Nuovo anche l'approccio di servizio che coinvolge tutti i reparti. Dichiarata la crescita del 15,5% e approvato il bilancio annuale, sono state presentate le novità per l'anno in corso. Il passaggio di insegne da Iper a Conad Iper, che riguarderà il supermercato di Colonnella, Città Sant'Angelo e Ortona, l'apertura di un distributore di carburante a Montesilvano, un'iniziativa di ecosostenibilità che prevederà l'abolizione della plastica e il lancio di un'app che consentirà di fare la spesa direttamente da casa. Discussa anche la possibilità di inglobare il marchio Ocean, hanno un'occasione che sembra indirittura d'arrivo. Ma se in molti vedono dei vantaggi, il direttore generale Antonio Di Ferdinando espone le eventuali problematiche. Siamo molto attenti su questa operazione. Aspettiamo un attimo l'agenzia dell'altità se cosa ci dice da questo punto di vista. Sicuramente in Abruzzo avremo dei problemi, nel senso che la quota di mercato di Conad Adriatico in Abruzzo è altissima, è oltre il 25%, per cui incorriamo nella possibilità di non poter prendere nella nostra organizzazione alcuni punti vendita di Oshan. Il rischio è molto forte. Il nostro programma prevede in Abruzzo soprattutto trasferimento e ampliamento dei punti vendita assistenti. Quindi per essere chiari, un punto vendita di 500 metri che oggi non ha più la possibilità di avere tutto l'assottimento Conad, non risponde più alle nuove esigenze dei clienti. Il poterlo trasferire su una struttura più moderna, con parcheggio e con mille metri quadrati di area vendita, sicuramente è un obiettivo che percorriamo con forza perché questo significa adeguare i nostri punti vendita alle nuove necessità.